Ed ieri mattina la notizia dell'arresto di nove presunti camorristi che sono stati bloccati ad Ascea Marina mentre stavano trascorrendo le loro vacanze. L'operazione è stata eseguita in base a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Napoli su richiesta della Dia della Procura Locale. Tre dei nove indagati sono stati appunto individuati e arrestati nel comune costiero del Cilento. L'azione è stata resa possibile grazie al supporto logistico dei carabinieri della stazione locale del reparto territoriale di Vallo sotto la direzione del tenente colonnello Santepicchi. Le nove persone arrestate sono accusate di vari reati tra cui tentata estorsione, detenzione e porto d'arma comune da sparo oltre a intralcio alla giustizia. Queste accuse sono state aggravate dalle modalità mafiose con cui sarebbero stati commessi i reati. L'operazione di arresto è avvenuta all'alba sul lungomare di Ascea dove i tre soggetti stavano villeggiando in alcune villette. Dopo essere stati condotti presso la sede del reparto territoriale di Vallo sono stati trasferiti al carcere di Furni. L'attività investigativa è scattata in seguito alla denuncia sporta dal gestore di un ristorante nel comune di Volla in provincia di Napoli. La denuncia riguardava presunte condotte estorsive perpetrate nei mesi precedenti con successivi tentativi e minacce oltre a violenze per costringere il denunciante a ritirare la querela. L'indagine avrebbe rilevato l'esistenza di un nuovo cartello criminale composto da membri dei clan Naprea, De Martino, De Miccio e Mazzarella operante nel quartiere Ponticelli di Napoli. Nelle scorse settimane un altro provvedimento emesso dal Tribunale di Napoli portò alla cattura di un latitante in villeggiatura nel Cilento ad Agropoli a finire nei guai in quel caso un trentenne originario di Sant'Antimo sul quale pendeva un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per associazione di tipo mafioso e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.